Sono andata agli armi ma che cazzo apriva non ho capito 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 Grazie a tutti. 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 Amico. Amico. Grazie a tutti. Terre proibite. Andiamo. Grazie a tutti. a tutti. non so mai, non so più nel vuoto ho trovato... perchè sono così pesante? ho trovato l'armatura... nel posto di questo, proprio qui ho trovato l'armatura con la gris che scelgo di tutti i mani, ho ancora di due tanto di due tanto di due tanto di due quest'anno che mi resta un'area all'inizio del giorno evidentemente mi sono sciolta questi non avendola mai vista ci sono molte...molti carri molto macchiato oggi è un'altra niente porta finta niente finta porta non è finta non è finta manco questa no? dunque il piede da forciatura è buona qualche cosa è arrivato? non è finta un'altra perché non ciò che fa? non ciò che fa? non ciò che fa? non è la parte di essa palle Forza, forza, forza. Alla! Corne, corne. Corne. Altro? Guarda, un lamberino di ascensore. Attenzione, questo sembra l'altro di... Cosa? Non è l'escrizione? Cosa? Cosa? Altro trovo di scala. Non c'è l'escrizione. Ah, ero mancato. Vabbè, si vede che non è una zona di emozione di ciò. Tanto è un medaglione lucente. Novità. Che cos'è su un medaglione lucente? Sarà qua su un medaglione. Potenza agli attacchi basati su ruggiti e soffi. Addirittura. Sicuramente non l'abbiamo esplorata al massimo, costaria, però, insomma, ci saranno solo pietre. Se qualcuno sa se c'è altro, lo scrivo nei commenti. Ok, questa era la prima. La seconda... Vedi? In Italia mi si può piacere. C'era poco andata. La seconda dovrebbe stare... Qua. C'è questo altro buco. Comunque sì. E poi c'è questa altra botta. Che è segnalata a sua mamma. Ma non ci sono mai andato. Non ci sono mai andato. Ma non ci sono mai andato. La Galleria di Cristallo di Raya Ocana. E' un po' più grande... E' un po' più grande... E' un po' più grande... Questa è finta... Oh... Questa è stato saltando ma forse... A prender qualcosa... Puff, se... Pog he visto... Oh no, no, no. Non mi schiena raperi. Fai scat Fai scat però quello sia il meccanismo bastone del re maiovo continuo a scendere non non no 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 Pietro da buccia 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 E' un coltello di cristallo. E' una cioteta. Sì! Questo pezzo è una mierda! Oh! Sisma terrestre! Questa! A volte di questa l'avrei vinto stregone giusto per vedere che cazzo fanno subito! Ah! Chiuso! Che enorme sto prossimo! Sì, continua a scendere! E non lo manco a esplorare tutto! Ah, qua non lo abbonco! Cazzo ci sarà! Che sta lì! Che sta lì! Che ciro! Che sta! Che sta solo qui! Che ciro! 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 Che ciro!